Salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti dal vostro Dark Chaos 92 Oggi sono qui perché voglio farvi vedere i punti esatti della sfida della settimana Ovviamente dove si trovano le teste di pietra Il primo punto esatto da dove si trova la testa di pietra è qui Questa è la prima testa di pietra, come potete vedere si trova qui Tra precisamente Cranoscevia del Cierpame e Parco Pacifico E questo è il primo punto esatto Adesso vi mostrerò il secondo punto Eccoci qua ragazzuoli, questo è il secondo punto dove si trova la seconda testa di pietra In questo caso la prima si trova qui dove c'è il punto La seconda si trova qui dove c'è il secondo punto Quindi tra il Tempio Tometo e il Rabide Rischiose Qui al centro ci sta la pietra Bene ragazzi, ci vediamo alla terza pietra Eccoci qua ragazzuoli alla terza testa di pietra In questo caso si trova qui precisamente Tra Sprofondo Stantio e Sponde del Saccheggio Tempio Tometo, quindi qua centrale più o meno In questo punto esatto Che vi lascio appunto il segnalino qui nella mappa Si trova il terzo Quindi ci vediamo al quarto Bella ragazzi, tra poco Eccoci qua ragazzuoli, questo è il quarto punto esatto dove sta la pietra La testa di pietra scusate Ok, si trova precisamente qui Vi segno il punto Ok Si trova tra rifugio, ritirato e corso commercio più o meno qui Dai, centrale Così Ok, perfetto Ci vediamo alla quinta testa A tra poco Bella ragazzi Eccoci qua ragazzi Alla quinta posizione della testa di pietra Che si trova precisamente qua sotto Ad Approdo Avventurato Al lato sinistro di Approdo Avventurato Questo è il punto esatto Ok E qui precisamente è E10 Il punto esatto Vabbè comunque vi ho messo il segnalino nella mappa Quindi lo vedete bene Adesso andiamo alla sesta E penultima testa di pietra A tra poco Eccoci qua ragazzuoli Nella sesta testa di pietra Che si trova precisamente qua sopra Tra Borgo Bislacco e Condotti Confusi Non vi potete sbagliare Dove ci sta appunto il ponte Questa è la montagna dove si trova la testa di pietra Quindi la sesta testa di pietra Bella ragazzi Ci vediamo alla settima ed ultima testa di pietra Eccoci qua ragazzi Finalmente nell'ultima testa di pietra Quindi la settima Si trova precisamente qui Non potete sbagliarvi Sopra Boschetto Bisunto Lo sapete già dove si trova Adesso E niente ragazzi Io vi ringrazio Per essere stati qui con me Ovviamente Ringrazio anche i nuovi Membri ITL Che mi hanno anche aiutato A cercare le teste Perché io Con la mia testa Già non ci sto Quindi loro mi hanno aiutato Un saluto E niente La guida di Fortnite è finita Ci vediamo alla prossima Ragazzi Vi voglio bene Vi voglio bene Grazie a tutti